A poche settimane dall'insediamento, il Governo regionale guidato dal Presidente Renzo Testolina ha deciso di ripristinare gli incontri settimanali con la stampa locale. Un momento per aggiornare in primis la comunità sui dossier, che vedono impegnati i singoli assessori, i provvedimenti varati nel corso della riunione della Giunta regionale e le iniziative previste nelle settimane a seguire. Sì, credo che sia importante ripristinare questo passaggio di informazione tra la Giunta regionale, tra il Governo, tra le decisioni che vengono assunte, ma anche un momento per rilanciare un po' quelle che sono le intenzioni a medio-lungo periodo che la maggioranza in senso più allargato vuole portare avanti. Il confronto con la stampa serve per dare all'opinione pubblica le informazioni di prima mano, in modo che siano fruibili fin da subito, senza grossi filtri. È un momento che deve essere sviluppato in senso positivo a favore dell'intera comunità. Nel primo appuntamento di lunedì 13 marzo, con tutta la Giunta regionale presente, il Presidente della Regione Renzo Testolina ha posto l'attenzione in particolare su tre temi. Sì, tempo per tempo si cercherà di dare dei focus un po' più approfonditi, non solo sulle delibere approvate in Giunta, ma anche su quelle che sono le tematiche di interesse più ampio da parte della comunità. In questi giorni si è parlato di Cime Bianche, si è parlato di PNRR e penso che queste tematiche vadano approfondite e spiegate nella giusta maniera, senza polemica, ma per mettere a disposizione del territorio le informazioni più puntuali possibili. Oltre a Cime Bianche, lo studio di fattività del progetto verrà consegnato in settimana al Governo regionale e consiglieri regionali. La conferenza stampa di lunedì 13 marzo è stata l'occasione per presentare le iniziative intraprese dal nuovo Assessorato Affari Europei, Innovazione, PNRR e Politiche Nazionali per la Montagna, per dar gambe ai 234 progetti locali finanziati dal PNRR. L'assessore competente Luciano Caveri ha informato la stampa della prossima pubblicazione di un bando per l'assunzione di 15 persone a supporto della nuova struttura. L'assessore allo sviluppo economico, formazione lavoro, trasporti e mobilità sostenibile Luigi Berschi ha invece aggiornato la stampa sulle interlocuzioni in corso, sul progetto di elettrificazione della osta evrea e sul progetto delle comunità energetiche. Grazie.